Un angelese di 27 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini della cessione di sostanza stupefacente. Si tratta di Giuseppe Vincenzo Lucca Unterspanna. Il ragazzo era a bordo di una macchina assieme ad altri due giovani quando è stato bloccato dagli agenti. Addosso aveva 10,5 grammi di marijuana divisa in 5 dosi custodita all'interno di una tasca del giubbotto. Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 75 grammi della stessa droga ed un bilancino elettronico di precisione. Il ragazzo è stato posto ai domiciliari. Sempre la polizia ha arrestato il 45enne Gianfranco di Natale. L'uomo deve scontare 5 anni e 9 mesi per mafia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Gli agenti del locale commissariato hanno denunciato un messinese di 41 anni ed un gelese di 56 per violazione degli obblighi di presentazione all'APG. Un altro gelese di 45 anni è stato segnalato per lesioni. Devono rispondere di furto aggravato e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti due gelesi di 28 e 51 anni. Complessivamente sono state controllate 523 persone ed ispezionati 1.207 veicoli, due i mezzi rubati rinvenuti. La polizia ha verificato anche le posizioni di 20 soggetti agli arresti domiciliari, di 27 sorvegliati speciali, di 4 liberi vigilati e di 3 affidati ai servizi sociali e 2 ai domiciliari. 7 le perquisizioni effettuate, 6 le contravenzioni al codice della strada elevate e 2 i veicoli sequestrati.